Ciao, sono Monica e oggi voglio parlarvi di una grande novità che la famiglia Peugeot ci regala, una city car decappottabile da look giovane e sbarazzino. Ecco a voi Peugeot 108 Top. Lo dice il nome stesso, Top, perché a bordo di Peugeot 108 si è sempre cool e all'ultima moda. Immaginatevi quest'estate, parlo soprattutto alle ragazzine, alle vostre figlie, alle vostre sorelle. Immaginatevi a bordo di questa trendissima vettura, il vento che vi scompiglia i capelli e questi specchietti rosa fluo che non vi faranno di certo passare l'osservate. Sarete delle vere e proprie dive. Il tema con cui è realizzata è il tema tattoo. Presenta dei fiori stilizzati disegnati con un tratto deciso e nervoso per donarle quel tocco seducente in più. Ora guardiamo insieme l'abitacolo. A bordo si respira veramente un'atmosfera fresca e moderna. È già proiettato al futuro con un touchscreen 7 pollici con funzione mirror screen. Cosa significa? Sarà possibile replicare le vostre applicazioni del vostro smartphone sullo schermo. Per quanto riguarda la parte anteriore, il cruscotto è semplice ed essenziale. I sedili la rendono più grintosa e sportiva. Per chi è un po' impacciato come me nei parcheggi, questa è sicuramente la vettura che fa per voi. Piccola, pratica, facilissima da pilotare. Ed inoltre consuma pochissimo. È stato verificato che è una delle vetture con i consumi più bassi della sua categoria. Appena è approdata nel nostro showroom, io e tutto lo staff femminile della Ratti Auto ci siamo letteralmente innamorate di questa vettura. Peugeot 108 Top. È la prova che sono i dettagli a fare la differenza. Specchie a tirosa fluo, tettuccia apribile, fiori lungo la carrozzeria. Sono elementi che lasciano il segno. Dedicata a chi ha una personalità vivace e forte. Venite a trovarci a Barzago in provincia di Lecco, in via statale numero 17. Noi siamo la Ratti, non solo auto. Noi siamo la Ratti, non solo.